All'angelo della chiesa di Efeso scrivi Così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza per cui non puoi sopportare i cattivi. Le hai messi alla prova, quelli che si dicono apostoli e non lo sono e li hai trovati bugiardi. Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti, che hai abbandonato il tuo amore di prima. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Che a orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio. Grazie a tutti.